Andrea Bennati siamo ancora qui col quartiere di Porta Crucifera, si parlava adesso con Vanneschi che praticamente vi giocate tutto per un posto per i titolari di Giostra, come stai vivendo questo momento di stop di tutte le manifestazioni? Io sono stato due anni fermo e adesso sono stato chiamato dal quartiere e mi hanno detto Andrea hai voglia di percorrere una nuova avventura con noi e io ho accettato. Ecco, quanto tempo dedicati all'allenamento? Praticamente quasi tutti i giorni, un'oretta e mezzo, due tutti i giorni. Anche con il lockdown e tutto quanto? Sì, io nel lockdown ero a casa da me, insomma. Quindi ovviamente adesso che ci saranno tra poco le riaperture sarà il momento di intensificare ancora di più? Certo, certo, dopo le aperture sì. Allora tu hai tirato la provaccia, come sono andati questi anni in prova? Io ho tirato provaccia dal 2012 al 2018 con un altro quartiere, con Porta Santo Spirito e dopo non avevo più tanto stimolo, diciamolo così, quindi avevo deciso di smettere. E dopo invece sono stato richiamato appunto dal quartiere, come ho detto, e eccomi qua insomma. Il cavallo che ti è stato affidato o è il tuo cavallo? Come risponde per ora al momento a questo tipo di chiamata? Allora, il mio cavallo è l'appaloso, toro seduto, quello laggiù, ma per adesso dimostra che qualche attitudine insomma ce l'ha per il Saracino. Vediamo. A giugno non si tira, si andrà a settembre, c'è tutta l'estate per poter provare, ovviamente sarà difficile perché comunque la giosta va preparata con oculatezza. Quali sono le strategie che il capitano e il vostro allenatore stanno cercando di impartirvi? Per adesso facciamo allenamenti qui al campo prova due volte a settimana, poi per il resto si vedrà man mano che andiamo avanti.